Ciao a tutti, eccoci in questa nuova chiacchierata dedicata a yoga e scienza. Oggi vi parlerò di una ricerca che è stata portata avanti da un gruppo indiano, da un'università indiana, dedicata al diabete di tipo 2 e la pratica dello yoga. Ricerca interessante perché utilizzeranno delle strumentazioni, dei metodi un pochino particolari e si andranno proprio a vedere come la pratica dello yoga aiuti enormemente nei confronti delle problematiche che il diabete di tipo 2 porta soprattutto a livello nervoso. Ma prima di adentrarci nella nostra ricerca, sigla e poi partiamo con la nostra chiacchierata. Partiamo con un cappello introduttivo. Intanto parliamo di che cos'è il diabete. Ne sentiamo tanto parlare ma alla fin fine di cosa si tratta. Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dall'avere un'elevata concentrazione di glucosio nel sangue. Il glucosio, se avete visto i miei video precedenti, è una molecola fondamentale per la nostra vita ma appunto quando è in eccesso nel nostro corpo è un problema. Appunto si sviluppa il diabete. Questa elevata concentrazione di glucosio nel sangue è dovuta al fatto che l'insulina non funziona. L'insulina è un ormone prodotto dalle cellule del Langerhans, del pancreas, e serve per togliere il glucosio dal sangue. Lo toglie trasformandolo in un'altra sostanza che è il glicogeno che sono tantissime molecole di glucosio unite insieme e questo glicogeno viene stoccato, viene immagazzinato nel fegato e nei muscoli quindi non è più nel sangue. Ora, ci sono due motivazioni per cui l'insulina non lavora, non funziona. Il primo è perché non viene prodotta direttamente dal pancreas e questo è più il diabete di tipo 1. Poi, invece, c'è un'altra motivazione, è il fatto che l'insulina non riesce più invece a lavorare in maniera efficace e questo è più tipico del diabete di tipo 2. In ogni caso, quello che si ottiene è l'iperglicemia, quindi questa elevata concentrazione di glucosio nel sangue. In questa ricerca si parla di diabete di tipo 2. Che cos'è il diabete di tipo 2? È una malattia tipica dell'età matura. Non è un diabete innato come il diabete di tipo 1, ma avviene proprio invecchiando. Però ci sono anche un po' una predisposizione genetica, ma soprattutto dei fattori di rischio scatenanti che sono legati allo stile, alle abitudini di vita. E infatti è una patologia tipica delle società industrializzate, delle società moderne, perché questi fattori di rischio sono l'obesità, l'inattività fisica, l'ipertensione e un elevato livello di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Quindi, vedete, è proprio il male della nostra società moderna. Ma cosa comporta il diabete? Il diabete comporta un elevato rischio di infarto, un elevato rischio di ictus, un'insufficienza renale, retinopatie, quindi disturbi di visione. Ci sono problemi di cicatrizzazioni, quindi delle ulcere che non vengono guarite. E soprattutto ci sono dei problemi a livello del sistema nervoso. Ed è proprio sul sistema nervoso che questa ricerca si agisce, su questa ricerca lavora. Si hanno dei danni neurologici importanti, sia a carico del sistema nervoso somatico, sensoriale, ma anche a livello del sistema nervoso autonomo. Per esempio, nei primi, si ha difficoltà dell'equilibrio, un'elevata sensibilità al dolore, sensazione di debolezza, paralisi muscolare, problemi di postura. Mentre nella seconda parte, in quelli dei problemi legati al sistema nervoso autonomo, si può avere problemi sull'attachicardia, difficoltà di minzione, disfunzione rettile, problematiche a riguardo alla pressione sanguigna, sudorazione eccessiva, oppure annullata. E anche problemi a carico del sistema intestinale, apparato intestinale, quindi diarrea e costipazione. Quindi vedete che il diabete agisce su tutto il nostro corpo, degradandolo pian pianino nel tempo. Quello che hanno fatto questi ricercatori indiani è stato quello di prendere 68 persone, tutte sofferenti di diabete di tipo 2, e tutte sotto farmaci ipoglicemizzanti, quindi sotto terapia, e iniziare con loro un percorso di yoga che dura 6 mesi 6 volte a settimana. Quindi un percorso abbastanza intenso, con un protocollo ben standardizzato, sia di asana, di posizioni, che di pranayama. E tra l'altro è un protocollo abbastanza interessante, dopo in descrizione vi allego tutto, che prevede anche un training, cioè se oggi faccio la posizione di yoga X per 10 secondi, e quindi tra una settimana la proviamo a fare di 20 secondi, quindi prevede anche un miglioramento della posizione, un training vero e proprio. E sono andati a indagare come variano due sostanze, che sono, adesso ve le dico, ma non preoccupatevi da questi nomi astrusi, che sono il mio inositolo e l'enne acetilaspartato. Ma la cosa interessante è la tecnica che hanno utilizzato per andare a indagare le concentrazioni di queste due sostanze. Dopo vediamo anche cosa fanno. Hanno utilizzato la risonanza magnetica nucleare. Tranquilli, non c'entra niente con la bomba atomica. La risonanza probabilmente la conoscete come tecnica, siete tutti andati, o tutti, spero di no, ma molti di voi saranno andati a fare una risonanza al ginocchio, una risonanza alla schiena, una risonanza, spero di no, all'encefalo, insomma. È quello strumento che ti permette di andare a ottenere delle fotografie, delle immagini, infatti si chiama risonanza magnetica per imaging, dei tessuti molli e vedere appunto come sta magari un'articolazione nei suoi tessuti molli, cioè per esempio le cartilagini. Però questa tecnica di analisi in realtà non è nata producendo immagini. È nata producendo quelle che si chiamano spettri, cioè dei diagrammi, diciamo, che il chimico o il biochimico è in grado di interpretare e da lì riesce a stabilire la composizione chimica di quello che sta guardando. Fondamentalmente questi ricercatori hanno preso questi 68 persone e una alla volta gli hanno messi dentro la macchina della risonanza magnetica nucleare, hanno fatto un'immagine del loro encefalo, perché la ricerca si basa su una porzione ben precisa dell'encefalo, del cervello, e dopo aver fatto quest'immagine hanno selezionato una piccola area su cui hanno fatto anche una indagine di tipo chimico attraverso la spettroscopia. E hanno quindi, sono andati a vedere, quindi, quanto mio inositolo viene prodotto dal cervello e quanto N-cetilaspartato viene metabolizzato. Perché hanno studiato queste due molecole? Queste due molecole sono interessanti perché il mio inositolo è legato direttamente a dei processi infiammatori, cioè quando c'è un'infiammazione in atto il mio inositolo cresce. E quindi, dall'altra parte, se vediamo il mio inositolo a livelli molto alti, possiamo capire che il corpo sta progredendo in una fase di tipo infiammatorio, ok? Mentre l'N-cetilaspartato è legato alla salute dei neuroni. Più N-cetilaspartato è presente, più questi neuroni stanno bene, vivono bene e riescono a esplicare la loro funzione. Ecco, lo stato di diabete provoca un aumento del mio inositolo, quindi questo stato di infiammazione cronica che c'è all'interno dell'encefalo, quindi una sofferenza neuronale che si trasforma poi anche in una sofferenza neurologica, e un calo dell'N-cetilaspartato, quindi una che rende conto di una degradazione dei neuroni. Ecco, è stato molto interessante perché queste 68 persone, dopo sei mesi di pratica di yoga e sei giorni a settimana, non cambiando null'altro nello stile di vita, quindi stessa dieta che facevano prima, stesse abitudini di vita, tutto uguale, hanno avuto un miglioramento di questi parametri. Il mio inositolo si è avvicinato, si è abbassato e si è avvicinato pian pianino ai valori, diciamo, normali, e l'N-acetilaspartato invece è salito. Quindi la salute dell'encefalo, la salute dei neuroni encefalici, è davvero migliorata, grazie alla pratica di yoga. Poi si sono fatti un'altra domanda, sì, ma questo miglioramento che si è avuto è davvero legato al diabete, cioè è davvero legato alla quantità di glucosio nel sangue che è diminuita? Allora, tutte queste persone sono sotto farmaci ipoglicemizzanti, quindi dei farmaci che tengono bassa la quantità di glucosio libero nel sangue. Quindi questi ricercatori sono andati ad analizzare un altro tipo di glucosio, un glucosio, una glicemia nascosta, diciamo, che non viene rilevata in questo modo, che è l'emoglobina glicata. Cioè il glucosio, invece di essere proprio liberissimo nel sangue, si va a legare a determinate molecole, tra cui anche l'emoglobina, che è il trasportatore di ossigeno. E fa danni anche lei, è un glucosio nascosto, che però c'è. E hanno visto che dopo sei mesi di pratica di yoga, anche l'emoglobina glicata cala. Tra l'altro l'emoglobina glicata non viene toccata dai farmaci ipoglicemizzanti, addirittura non risente nemmeno se il giorno prima abbiamo mangiato dei Nutella Biscuit. Quindi è una cosa veramente che nel tempo rende conto di una glicemia nascosta. Ora, è stato possibile anche legare l'enacetilaspartato e il mio inositolo alla quantità di emoglobina glicata, nel senso che quando l'emoglobina glicata, quindi quando questa glicemia nascosta è alta, significa che comunque a livello dei neuroni c'è molto glucosio e il fatto che ci sia molto glucosio in termine proprio massivo, la quantità di glucosio, mette in sofferenza i neuroni, tende a distruggere le cellule neuronali. Mentre il mio inositolo è un metabolita diretto del glucosio, cioè quando c'è tanto glucosio in determinate condizioni, dopo due o tre reazioni chimiche si ottiene il mio inositolo. Quindi tanto mio inositolo significa che in giro c'è del glucosio, appunto il legame è strettissimo. Quindi il fatto che l'emoglobina glicata sia diminuita, il mio inositolo sia diminuito, l'enacetilaspartato sia aumentato, significa che la pratica di yoga ha agito sui livelli di glucosio anche nascosto e ha migliorato le condizioni dei nostri neuroni. Questa è una cosa davvero importante. Ma perché lo yoga è riuscito in tutto questo? Cosa che il farmaco classico per esempio non riusciva, perché i livelli appunto di mio inositolo e l'enacetilaspartato rimanevano alti con il farmaco ipoglicemizzante. Ce l'hanno fatta per due motivazioni, hanno detto questi ricercatori. Il primo è che qualsiasi azione di tipo muscolare consuma del glucosio. Quindi è abbastanza semplice, questo lo fa lo sport, è già di per sé. Quindi il glucosio è la principale benzina, diciamo, del nostro corpo per muovere il nostro corpo, i muscoli la bruciano, quindi non è più nel sangue. Molto facile. Lo yoga è anche attività fisica, quindi avete già fatto, quando fate uno più uno, ottenete appunto il calo di questa glicemia. Ma c'è un'altra motivazione, e questa è proprio tipica delle pratiche di yoga. E cioè, quando la pratica di yoga è fatta correttamente, si ha uno switch, si dice un cambiamento, un on-off, diciamo, fra il sistema nervoso simpatico e il sistema nervoso parasimpatico. Il sistema nervoso simpatico è il sistema eccitatorio, è il sistema nervoso che dice al nostro corpo di oh, guarda che io devo fare uno sforzo, quindi metti in campo le risorse perché io regga questo sforzo. La prima cosa che fa il sistema nervoso simpatico è di dire butta in circolo del glucosio. Questo è quello che succede sotto stress, ok? Mentre il sistema nervoso parasimpatico dice al nostro corpo, fa guarda che è finito lo sforzo fisico, adesso ci possiamo rilassare. Quindi inizia a togliere il glucosio dal corpo, rimettilo nei muscoli, rimettilo come glicogeno, quindi come immagazzinamento anche nei muscoli, nel fegato, perché adesso non ne abbiamo più bisogno, siamo in uno stato di relax. Ecco, lo yoga fa fare questo switch, sistema nervoso simpatico parasimpatico, in cui l'insulina viene prodotta e riesce a togliere il glucosio dal sangue. E questa è una cosa proprio caratteristica delle pratiche di yoga. Vedete quanto la scienza ci permette di comprendere, di capire cosa succede al nostro corpo durante le pratiche di yoga e anche capire se le pratiche di yoga sono corrette o no per noi. Lo yoga davvero è una terapia, prima di tutto fisica, mentale, respiratoria, emozionale. È una terapia di tipo olistico e questo ce ne rende ben conto. Io come sempre vi ringrazio perché mi seguite in tutti i miei video, li condividete. Io spero che questa rubrica yoga e scienza vi piaccia, perché come vedete anche gli indiani cercano di dare spiegazioni scientifiche allo yoga, perché tutto possa diventare più riproducibile, tutto acquisti un senso che possa essere di comprensione comune per il mondo intero. e se questo video vi è interessato condividetelo, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e noi ci possiamo vedere alla prossima chiacchierata di yoga e scienza. Ciao a tutti!